Scusi, veniamo un istante a quello che ci ha detto ieri Sileri, perché insomma l'abbiamo ascoltato sia io che Davide. La prima cosa che ha detto è che lei è stato uno dei primissimi nomi che lui ha fatto per il CTS, pensando che lei avesse l'esperienza necessaria per poter essere molto utile e che invece il nome è stato bocciato. Il CTS secondo lei sta funzionando bene e male? Le faccio presente che ieri Salvini in un'intervista ha detto facciamo un altro CTS, un secondo CTS del Parlamento, eletto dal Parlamento, nominato dal Parlamento. Cosa ne pensa? Guardi, io dialogo singolarmente con vari membri del CTS che stimo, che conosco e che apprezzo da anni. Sono personalmente allergico a queste forme di coinvolgimento in organismi istituzionali. Ci sono entrato tempo fa, nel 2009, quando appunto sono io che ho istituito il network di terapie intensive per fronteggiare l'H1N1, quindi la pandemia influenzale che proveniva dall'emisfero australe. Questa volta non è andata così perché non sono stato preso in considerazione, ma non me ne dispiace assolutamente perché ho tratto grandissime soddisfazioni dal colloquio e dal dialogo costante con loro, cercando di dare comunque il mio contributo. E credo di averlo fatto cercando di stressare quelli che secondo me devono essere i principi fondamentali, il primo dei quali è un sistema sanitario organizzato. Vedi, dottoressa Merlino, quando si pensa di risolvere fornendo dei respiratori il problema delle terapie intensive, vuol dire che non si è capito nulla, perché allora vuol dire che uno può mettere un respiratore nel box di casa propria ed eventualmente utilizzarlo alla bisogna. Non è così come potete immaginare. E' il motivo per cui non decolla l'ospedale in fiera, di cui probabilmente ci sarà, ci sarebbe bisogno. Se è vero appunto che le terapie intensive sono sotto pressione, benissimo, però è difficile farlo decollare, renderlo funzionale, proprio perché più delle macchine contano le persone. Abbiamo la pubblicità.